A partire da oggi via libera anche in Abruzzo alle prenotazioni per le vaccinazioni ai nati fino al 1981. Nel documento indirizzato alle regioni e alle province autonome dal commissario straordinario all'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo comunque si specifica che i criteri per stabilire la priorità delle somministrazioni rimangono anzianità e fragilità. In Abruzzo dunque tutto pronto per questa ulteriore prosecuzione della campagna vaccinale. Alcune regioni hanno già fatto partire le prenotazioni mentre altre lo faranno in queste ore. Non vuol dire però che per i quarantenni sarà possibile vaccinarsi presto. In molti territori si potrà prenotare ma sarà poi necessario attendere un po' prima di poter realmente ricevere la dose di vaccino anti-Covid. Su questo ogni decisione è lasciata alla discrezionalità delle singole regioni. Il via libera di Figliuolo è arrivato soprattutto per effetto della spinta di Veneto e Friuli Venezia Giulia che hanno chiesto di poter aprire subito i quarantenni. Così entrambe le regioni hanno deciso di inserire i cittadini di questa fascia di età in eventuali buchi in agenda. Parte oggi anche il Piemonte almeno per la fascia 45-49 anni mentre per quella dei 40-44 anni si dovrà attendere il 21 maggio. Anche in Puglia da oggi alle 14 si apre la prenotazione per gli over 40 ma sempre per categorie. Prima tocca i nati tra il 1970 ed il 1973. Da mercoledì alla fascia 1974-77 e da venerdì ai nati dal 78 al 1981. Prenotazioni aperte dal 17 maggio anche in Sicilia per i nati dal 1972 al 1981 così come nella nostra regione stando all'annuncio del presidente Marco Marsiglio. L'Abruzzo stando a quanto riporta open data per il sole 24 ore si trova a oltre 614 mila dosi somministrate sulle 690 mila consegnate. Un dato che ieri ha visto 9.531 dosi somministrate, 5.518 Pfizer, 3.042 AstraZeneca, 904 Moderna e 67 Johnson, unico siero monodose tra quelli a disposizione. Per quanto riguarda le prenotazioni devono avvenire collegandosi sulla piattaforma Poste inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. È disponibile anche il numero verde attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20. In alternativa ci si può recare in uno dei 270 sportelli post-mat attivi sul territorio che possono essere utilizzati anche da tutti gli abruzzesi che non sono clienti di poste accedendo con la tessera sanitaria.